Il Governo, come era previsto, ha posto la fiducia alla Camera sul decreto Mille Proroghe, come annunciato dall'intervento in aula del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico Dincà. I tempi per la conversione in legge sono stretti. Domani a Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia, poi il voto. Seguirà il passaggio in Senato, dove il decreto dovrebbe arrivare blindato il 25 febbraio. In ogni caso, appena alla decadenza, il Mille Proroghe dovrà essere convertito in legge entro il 29 febbraio. Proteste dall'opposizione, con i capi gruppo in commissione bilancio alla Camera, che hanno lamentato l'atteggiamento prepotente della maggioranza, che li ha indotti ad abbandonare i lavori in commissione. La loro litigiosità e anche una certa impreparazione hanno portato alla presentazione di un nuovo pacchetto di emendamenti. In fretta e furia, hanno detto Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, a un mese di distanza dalla scadenza dei termini, fissata per il 18 gennaio, dopo i numerosi rinvii che hanno caratterizzato l'esame del provvedimento. Da alcuni, definito una manovra bis, il Mille Proroghe contiene le norme più disparate, dalla possibilità per i medici di restare in servizio oltre i 40 anni di attività, ma fino all'età di 70 anni, all'RC autofamiliare, dalle norme sull'uso dei monopattini elettrici alle concessioni autostradali, fino ai provvedimenti per i lavoratori delle aziende in crisi, come la proroga della Cassa Integrazione Straordinaria per l'Exilva. Grazie. Grazie.